Buongiorno, ogni abitazione, sia essa una villetta, sia essa un condominio, ha bisogno di un portocene d'ingresso. Esso è l'elemento di divisione tra l'interno e l'esterno e il buongiorno che noi diamo agli amici che ci vengono a fare visita. Noi di Cascello lo possiamo realizzare in vario modo, con vari materiali, in legno, in legno alluminio. Ovviamente questi portoncini hanno delle caratteristiche uniche nel suo genere. Innovazione, design, sicurezza, unicità. Ecco, noi della Cascello abbiamo pensato tutto questo per il tuo comfort, in quanto un portoncino, a differenza delle finestre, deve avere anche una tenuta maggiore rispetto ai malintenzionati. Abbiamo stipulato con aziende primarie, tra cui AGB, rapporti commerciali particolarmente stretti per fornirti il massimo della ferramenta, per la tua sicurezza, per il tuo comfort. Vieni da noi, rimarrai sicuramente estrefatto della bontà e delle prestazioni dei nostri portoncini. Anzi, volevo suggerirti una cosa molto importante. Nella scelta del portoncino abbiamo redatto un manuale che puoi scaricare gratuitamente dal nostro sito. Ti aspetto, ciao!